Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GNA e ricominciamo, finalmente sono riuscito a rifare da zero della stofasa dopo la perdita dei dati e ho ripreso quindi come di consueto questi gameplay li farò non commentati Ciao ciao, buona visione Cosa cazzo? Ho sentito qualcosa! Fai attenzione amico Oh merda! Brutta merda! Oh merda! Oh merda! Lui ha finito il colpo! Oh merda! 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Giù, 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 giù. Ce ne sono altri. Svelti da quella sei. Bene, andiamocene. Ok. Non penso ci abbiano visto. Ecco il mostro puro. Conti, andiamo a muoverci forza. Quella ragazza è la ragazza è magrissima. Non posso saltare così lontano. Aspetta qui, guarda, guarda, guarda dove va a finire. Allora, grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Tagli, grazie a tutti. Metti l'asse come hanno fatto loro. va bene, grazie a tutti. Ah, grazie a tutti. E cosa prendevi? Beh, solo grazie a tutti. 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 No, grazie a tutti. no, grazie a tutti. No, è troppo in alto. grazie a tutti. grazie a tutti. mi manca, grazie a tutti. mi manca il caffè. grazie a tutti. 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 a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. bene, ragazzi. questo gameplay finisce qui. e vi aspetta... oddio. Johnny Rosso è stato qui. per chi ha visto Mentalist capirà. ciao ciao, alla prossima. grazie a tutti.